Quindi dicevo, questo applicativo che vedete alle mie spalle è stato realizzato con una mascherina stencil, con l'oro in foglia tantissimi kit sono stati venduti lo scorso fine settimana grandissimo successo della foglia d'oro e tantissimi stencil sono stati venduti la settimana precedente ancora e quindi cosa ho pensato? Ho pensato che per potervi far utilizzare tutto ciò che acquistate e per darvi tante opzioni di utilizzo ho deciso di utilizzare sia lo stencil e quindi anche le mascherine che avete acquistato le potrete riutilizzare con questa tecnica noi le avevamo applicate con la tecnica della decorazione sulla stoffa e quindi, grazie Jacqueline con la tecnica della decorazione sulla stoffa avevamo fatto l'utilizzo delle mascherine stencil questa sera utilizzeremo le mascherine stencil sul mobile però, come voi ben sapete, per me la prassi delle cose facili non è di mio gusto e quindi cerco sempre di valorizzare e rendere ogni elemento decorativo sempre molto speciale quindi, foglia d'oro, stencil, foglia argento con applicazione sul legno allora, questo è stato realizzato con la mascherina stencil e coloro in foglia come vedete è un effetto luminosissimo perché la foglia d'oro è in assoluto l'oro più luminoso che voi possiate trovare qualunque elemento decorativo, qualunque pittura, qualunque vernice che voi acquistiate come oro non vi potrà mai e poi mai dare il risultato dell'oro in foglia noi abbiamo creato questo che non è una vernice, non è un oro liquido vedrete l'applicazione di questo pigmento è un oro in cera è un pigmento ceroso ed è questa la novità di questa settimana domani parleremo di pigmento di foglia d'oro pigmento di foglia d'oro sono delle micro particelle di foglia d'oro che miscelate con delle essenze cerose danno la possibilità di realizzare queste finiture il pigmento di foglia d'oro è un prodotto completamente diverso dall'oro in foglia l'oro o l'argento li troviamo sotto forma di libretto questa settimana la scorsa settimana ne abbiamo venduti tantissimi kit poi vi ricorderò anche da cosa è composto il kit quindi ha oro o argento in foglia che si applica con la missione e ve lo farò vedere su questo applicativo e quindi qua questo elemento decorativo invece è un elemento decorativo completamente diverso seppur in apparenza sembra oro in foglia è il pigmento quindi di foglia oro che trovate sul sito nella voce finiture e verrà inserito oggi stesso nella sezione live in maniera tale che voi lo possiate trovare e il pigmento che differenza ha il pigmento rispetto a l'oro in foglia il pigmento si utilizza negli stencil quando la decorazione è molto molto sottile quindi quando abbiamo un decoro molto particolareggiato l'oro in foglia che vi farò vedere adesso lo utilizziamo invece quando abbiamo un decoro grande questi sono gli stencil con cui questa sera realizzerò il mio decoro in realtà questo è l'utilizzo il Damasco Liberty ne abbiamo pochissimi solo 6 ragazze e 6 tappezzeria Damasco quindi 6 e 6 verrà data la priorità a chi al costo di 6 euro e 50 verrà data la priorità a chi lo prenota in live e me lo poi conferma questa sera stessa su whatsapp abbiamo pochissima disponibilità purtroppo perché quando preparo la live e i miei clienti entrano ed escono dal negozio e vedono le lavorazioni le acquistano ne avevamo 12 e 12 ma siamo rimasti senza quindi 6 e 6 prenotateveli con questi andiamo ad applicare la foglia oro con l'utilizzo della mascherina e quindi realizzeremo questo applicativo invece domani sera nella seconda parte della live andremo ad applicare con questa mascherina una decorazione tutta intorno a questo tavolo quindi il centrale sarà composto da questo medaglione damasco stupendo e il laterale che è un tavolo tondo e ve lo farò vedere a brevissimo lo andremo a decorare con questo decoro che si chiama centrino barocco e anche di questi ne abbiamo un otto pezzi e con questo andremo a realizzare tante tipo un merletto che verrà applicato sul circondariale di questo cerchio e realizzeremo una decorazione particolarissima perché con questa mascherina non andrò ad utilizzare la foglia oro ma andremo ad utilizzare il pigmento oro perché questa mascherina ha aspettate che con le luci non riesco ha dei micro fori molto molto piccoli e molto molto stretti e quindi nelle parti strettissime che sono queste qui la missione e la foglia oro fa tanto fatica ad esserci e quindi noi andiamo ad applicare i decorativi piccoli con il pigmento di foglia invece i decorativi grandi li applichiamo con la foglia originale quindi in questo caso abbiamo lavorato sull'oro questa sera lavorerò sull'argento i libretti di foglia argento sono già disponibili sul sito e li potete acquistare al costo di 8 euro e 50 20 foglietti allora ragazze il si brave brave ragazze cominciate a prenotarli perché purtroppo ne abbiamo pochissimi l'azienda ce li manda veramente con il contagoccio e poi nei negozi abbiamo un giro di vendita così forte che li acquistano appena arrivano allora cominciamo ragazze abbiamo qui il nostro kit della foglia oro di cui abbiamo parlato la scorsa settimana quindi missione missione che è questa qui poi abbiamo la gomma lacca poi abbiamo la catramina antichizzante poi abbiamo il foglietto abbiamo i pennellini ce li ho qua guardate li sono messi nel taschino pennellini questa sera aggiungiamo il tamponcino quindi tamponcino stencil domani parleremo del kit quindi domani troverete nel kit nuovo solo ciò che manca al kit foglia oro quindi chi ha acquistato già già chi ha acquistato già il kit foglia oro basterà acquistare il mini kit che domani sera proporremo dove ci sarà uno stencil barocco un tamponcino e un pacchettino di foglia argento perché nel kit foglia oro la foglia argento non è contemplata allora ragazze comunque di questo parleremo domani adesso cominciamo a lavorare ho appoggiato all'interno del del tappino un po' di missione vado a tamponare e con all'interno del tappino e prelevo un po' di missione ho fermato vi avvicino un attimo ecco qua ho fermato il al al mio tavolo è un tavolino rotondo o ha questa forma tonda molto carina è un piccolo tavolo da mettere al lato dei divani è un tavolino d'arredo che ho deciso di realizzare con il piano nero perché così riuscite meglio a percepire la sensazione dei colori e l'applicazione dei materiali perché naturalmente anche lo scorso venerdì mi sono accorta che si vede poco nel senso che gli applicativi anche venerdì scorso che ho realizzato con la foglia oro realizzato delle anticature la luminescenza e la bellezza di quei fiori riguardando anch'io la live si notava veramente poco quindi lavorando sul nero mi sono garantita una ottima visibilità del lavoro allora ragazze intinto il tamponcino vado ad applicare vado ad applicare la missione ho applicato già la missione precedentemente e quindi adesso non ho preso tanto prodotto sul tamponcino in quanto dovevo tenermi abbastanza asciutta perché come ho detto la scorsa settimana la la missione la dovete far leggermente asciugare un'oretta anche mezz'ora se vi aiutate con il phon quando lavorate con diciamo decorativi quindi elementi molto piccoli soggetti piccoli e invece la dovete far asciugare almeno 3-4 ore quando lavoriamo con supporti molto grandi quindi per esempio quando andate ad applicare la missione tipo sui braccetti di un lampadario o sulle foglie di un rosone in legno quando la superficie da decorare con la foglia rimane molto larga vi consiglio di lasciare asciugare un attimino in più in questo caso io la sto mettendo ma nello stesso tempo la sto anche un po' asciugando perché la spugnetta diciamo metto e tolgo con la spugnetta e quindi sto già diciamo aiutando l'asciugatura vi consiglio comunque un tempo di prendervi un tè di tempo di prendervi un caffè quando finite l'applicazione della missione lasciatela tirare leggermente ecco qua mascherina posizionata con il nastro carta non deve assolutamente muoversi perché la 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 decorazione deve rimanere ben ferma sul supporto quindi non non fate molta attenzione di tenere la mascherina ben bloccata adesso aspettando qualche minuto che la missione sulla parte centrale asciughi metto da parte il mio tamponcino voglio farvi vedere come andrò a preparare lo sfondo del tavolino perché non voglio un effetto nero strong un nero modernissimo effetto blackboard ho la voglia di avere comunque una situazione di nero anticato e quindi in attesa che la la missione tiri leggermente all'interno di questa mascherina lasciando tutto come sta vi faccio vedere la decorazione del del bordo del tavolino quindi di questo di questa parte allora un attimino solo che vi metto in posizione in maniera tale che voi possiate vedere bene il supporto allora il tampone della missione si lava la missione è un prodotto collante quindi il tampone della missione vi consiglio di lavarlo prima con dello sgrassatore e poi eventualmente anche con un po' di alcol in modo da poterla sgrassare bene oppure o con dell'acquaraggia o con del diluente in modo da poterlo sgrassare anche le mascherine stencil e assolutamente questo lavoro si può fare anche cioè il lavoro della mascherina non la dovete necessariamente fare su una base decorata love paint la potete anche realizzare direttamente su un'anta con un fondo color noce quindi non è detto che dobbiamo assolutamente creare un fondo di colore in quanto la missione e prende benissimo anche sul legno quindi tranquillamente potete andare direttamente la missione è ad acqua soltanto che per una pulitura diciamo fatta a regola d'arte vi consiglio sempre di usare o un po' di alcol o un po' di sgrassatore è una questione soltanto per aiutare per facilitarvi il lavoro la missione in vendita è una missione ad acqua allora vi volevo far vedere l'anticatura che vado a realizzare su questo bordo di tavolino ho applicato il colore nero il colore nero numero 12 il colore in gamma della cofpaint nero 12 eccolo qua è stato applicato una una base e quindi sono state date due mani di colore in realtà già il nero è ad altissima copertura quindi con una mano riuscite già ad andare in copertura per realizzare un effetto antichizzato ho deciso di utilizzare un chiaro e quindi ho scelto della linea in gamma un colore crema ma voi potete utilizzare l'avorio il magnolia potete utilizzare qualunque tonalità love che avete nelle tonalità chiare non è detto che questo lavoro lo dobbiate fare necessariamente sul nero io ho fatto sul nero perché volevo farvi vedere bene il contrasto e bene i dettagli ma lo potete realizzare come ho fatto qui su un fondo avorio che ho patinato con la patina rovere e quindi ho striato con la patina se volete vedere la tecnica della patina scrivete nei commenti patina e domani sera comincerò la live facendovi vedere la tecnica che ho applicato sul fondale di questo di questo di quest'anta in modo che possiate effettivamente partire da zero in questo caso ho utilizzato il nero e vado ad anticare con la con il con il colore crema però voi questo lavoro lo potete fare su qualunque qualunque supporto di qualunque colore dovete dovete tenere presente una cosa che se utilizzate un supporto scuro la foglia argento risalta moltissimo se utilizzate un supporto chiaro vi consiglio di utilizzare la foglia oro benissimo ragazze continuate a scrivere patina perché se vedo che c'è una bella quantità di persone che è interessata a questo argomento con la live di domani sera comincerò con l'argomentazione patina e quindi vi farò vedere come sono andata ad applicare questo come ho realizzato il fondale di questo di questa di quest'antina ero sicura che questo abbinamento vi piacesse infatti sono andata molto spedita nel prepararvi la live continuate ragazze io intanto vi faccio vedere invece questo nuovo tipo di anticatura che si chiama anticatura a paraffina l'anticatura a paraffina è un'anticatura facilitata per tutte le persone che non hanno dimestichezza con il pennello l'anticatura a paraffina si applica in questo modo una volta applicato il fondo del colore quindi dopo aver messo il colore nero se ragazzi mi portate un pezzettino di carta abrasiva di una grana 200 così faccio poi la carteggiatura vado questo è la questa è la paraffina paraffina in vendita anche sul nostro sito è una base scollante che serve per aiutarvi e facilitarvi l'antichizzatura la paraffina si usa tantissimo nello stile cibi nella parte di nelle stili molto country molto provenzali molto molto stile rustico perché la paraffina serve per proteggere il colore di base e con l'applicazione del secondo colore il colore di base rimane sotto la paraffina è stata applicata e distribuita così in maniera molto irregolare su tutto il supporto praticamente strofino il supporto eccolo qua in in controluce probabilmente voi non lo vedete vi avvicino un attimo la telecamera per vedere se riesco a farvelo notare escono fuori delle striature come se fossero sapete quando utilizzate per esempio la gomma da cancellare su un su un vetro o su una superficie plastica cosa succede che si vedono delle striature la paraffina e si applica così non deve essere molto precisa ma deve dare questo effetto di striature grazie Renata quindi riuscite a vederla e le riuscite a vedere ecco sono andata ad applicare queste striature che cosa farà questa paraffina mi darà la possibilità di antichizzare con molta facilità perché perché io adesso andrò ad applicare su questa base scura naturalmente con il pennello rimuovete rimuovete tutte le bricioline di paraffina che rimangono staccate dalla superficie quindi tiratele via con il pennello in modo che poi dopo non abbiate problemi una volta appunto applicata e poi intingo il pennello all'interno del colore crema vado a secco quindi non diluisco il colore lo lascio molto molto secco e vado ad applicare il colore bianco che cosa succede? vediamo se riuscite a vederlo che cosa succede? succede che il bianco viene completamente spinto via nei punti in cui abbiamo la paraffina e invece viene ad attaccare nei punti in cui la paraffina non è stata applicata quando io strofino il pennello sulla superficie cosa succede? che il bianco non attacca in maniera diciamo definitiva in quanto lo scollante che sono andata a mettere sotto mi facilita perché altrimenti se io non utilizzassi la paraffina e andassi ad applicare il bianco sul nero non riuscirei ad ottenere questi effetti di anticatura allora guardate spingo spingo col pennello mi avvicino un attimo vediamo se riesco a farvi vedere un dettaglio guardate allora sping le dita sulle setole del pennello e spingete sfregate che cosa succede? che viene un lavoro completamente già di anticatura ditemi un attimo se riuscite a vedere ci sono dei punti si creano come degli effetti micro maculati dove nei punti in cui la paraffina ha aderito bene il colore bianco stacca e quindi si crea un effetto antichizzato naturale non ci vogliono nessun tipo di accorgimenti e tutte le persone anche persone alle prime armi possono assolutamente realizzare questo questo lavoro quindi diciamo che non è come quando andiamo a fare una lavorazione per esempio su in anticatura dove magari bisogna pesare la mano dove bisogna fare in modo che bisogna scaricare il pennello bisogna fare in modo che sul pennello non ci sia eccesso di colore altrimenti si sporca e quindi diciamo che il 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 progetto è molto molto semplice una volta fatta la prima mano di bianco vedete già asciugata perché l'ho tirato l'ho messo tiratissimo vado a carteggiare vado a carteggiare il sforzo carteggiando con la carta abrasiva cosa succede che nei punti in cui ho applicato la paraffina vengono fuori questi effetti micro maculati quindi non so se si riesce a vedere ragazze ditemi un attimo se riuscite a notare questa incrociate andate sia per lungo che per corto quando utilizzate la 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 carta abrasiva in modo da realizzare veramente un effetto bellissimo particolarissimo tutte tutto ciò che rimane sotto si ditemi se si vede ragazze tutto ciò che rimane sotto è la parte che non è stata intaccata dalla paraffina invece le parti toccate dalla paraffina hanno creato un effetto scollante e quindi hanno distaccato il colore quindi si vede perfetto allora allora ragazze ritorno così vi riguardo un attimo scusatemi solo un secondo riposiziono un attimo questa aiutami un secondo allora la candela la candela non la possiamo utilizzare perché perché la candela all'interno ha della cera e quindi si può utilizzare la candela solo ed esclusivamente se andate a fare un lavoro di poca importanza cioè per esempio se decorate una scatola se decorate un complemento d'arredo di poca importanza una scatola per dire da vino e volete realizzare un portaposate se fate dei complementi di poca importanza cioè complementi oggettistica ma se andate ad utilizzare se andate ad utilizzare questa tecnica per realizzare un mobile vi consiglio assolutamente di non andare a utilizzare la cera la paraffina è un prodotto tecnico molto importante una volta attaccata sul supporto non si scolla più infatti come vedete io sono andata a carteggiare ma la paraffina è rimasta benissimo incollata oddio va bene è rimasta incollata se mi vuoi un attimo sollevare questo qui che mi è caduto dietro allora quindi la mascherina stencil è stata lasciata però in questo momento visto che la missione è asciugata la posso tranquillamente rimuovere rimuovendo la mascherina posso iniziare anche ad applicare la foglia oro qui sono andata a creare una squadratura quindi appositamente ho lasciato la mascherina perché volevo creare questo punto di delimitazione tra lo stencil e la superficie antichizzata e decorata l'effetto è bellissimo non so se si riesce a vedere non voglio avvicinarmi troppo perché ho paura che poi dopo non riesco più a riposizionare la videocamera la telecamera in posizione giusta una volta realizzato questo effetto casteggiando a destra e sinistra in su e giù abbiamo ottenuto questo questo si chiama effetto in trasparenza va bene quanto più casteggiate più andate a rimuovere ma vi consiglio di rimanere su un 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 cioè diciamo è molto bello un effetto 50 e 50 così come come ve lo faccio vedere allora scusate un attimo riposiziono bene la telecamera in modo da potermi potervi far vedere bene il lavoro e tiramela su un attimo perché purtroppo una volta spostata allora questo qui tiramelo su allora scusate ragazze ma questo è il bello della diretta ok allora sì allora adesso fatta l'antichizzatura del del fondo procedo con la decorazione del dello stencil quindi con l'applicazione dell'oro in foglia in trasparenza penso che si vede in trasparenza penso che si veda già la parte lucida della colla io almeno dal dal video riesco a vederla chiudo i colori in modo da toglierli il tamponcino e inizio ad applicare la foglia mi serve un pennello pulito se me lo vuoi prendere anche da qui stesso allora con l'utilizzo di un pennello ovalino quindi un pennello tondo noi abbiamo questi pennelli ovalini che sono bellissimi in quanto utilissimi sia per stendere la cera sia per antichizzare sia anche per decorare sulle cornici piccoline con l'utilizzo di questo pennello ovalino che verrà messo diciamo nel kit di domani sera inizio a prendo il fogliettino dell'argento molto delicatamente prendo il fogliettino lo appoggio sul pennello e lo posiziono sulla sulla missione quindi sulla colla lo faccio aderire che cosa succede che dove ho applicato la missione la foglia oro comincia ad aderire dove la missione non è stata applicata viene subito via perché il pennellino ne permette una facile rimozione non cercate di di non strofinare ma andate soltanto a spingere utilizzate il pennello per spingere finché il foglietto non si è incollato bene quindi questa è il primo foglio come vedete con un foglio sono riuscita a realizzare mezzo medaglione vado a prendo il secondo foglio secondo foglietto all'interno del libretto è così che vi arriveranno con contenuti all'interno di questo libretto naturalmente lo metto in sbiego in modo da poter prendere tutto il restante del disegno spingo con il pennello guardate faccio una piccola pressione e spingo non utilizzate le dita perché con le dita andreste ad opacizzare la foglia quindi vi consiglio di spingere con le setole del pennello pulitissimo e soprattutto asciutto vediamo un attimo andrebbero bene anche i frammenti sì 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 assolutamente andrebbero bene anche i frammenti e qui ho un pezzettino ancora che quindi prendo il foglio e lo sposto abbiamo in vendita anche i frammenti ma vi consiglio di conservare i frammenti quando realizzate delle delle cornici delle bordature vi consiglio di conservare i frammenti perché li potete rirecuperare e riutilizzare perché in questi in questi decori che sono così piccoli e così diciamo le superfici sono così piccole non 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 c'è la necessità di avere un foglietto grande quindi anche recuperare potete anche recuperare i frammenti dell'oro o dell'argento che avete utilizzato su altri lavori che cosa sto facendo adesso vediamo un attimo mi abbasso un secondo questa tecnica è meravigliosa è vero è vero questa è una tecnica che ho inventato io ragazze queste queste sono quelle tecniche che mi sogno la notte quando penso a voi e quando penso che cosa devo fare per realizzare qualcosa di nuovo e per stupirvi soprattutto quindi ditemi se se vi piace sì Silvia col guantino in cotone lo potete fare tranquillamente lo potete fare perché sulla pelle è presente sempre un po' di di il grasso naturale della pelle quindi a volte evitare di toccarla con la pelle è sempre meglio grazie Virginia penso a voi penso a voi tutta la settimana anche se non si vede però vi penso vi penso fortemente sono molto contenta del successo delle live e vi chiedo di di condividere con i vostri amici e queste il nome della mia pagina perché ci sono tante persone che hanno il desiderio di conoscenza questi contenuti gratuiti ebbene che ne possano usufruire tutti va bene ragazze il lavoro si allora adesso sto facendo allora questo questa parte che sto applicando adesso è il lavoro che si chiama spolvero questo è il lavoro dello spolvero si Maria Rosa non dormo mai non dormo mai Maria Rosa sono sempre le menti creative non riposano mai sono sempre in movimento vi ho detto all'inizio che non finisco la live del venerdì che già sto pensando il sabato a che cosa proporvi il giovedì quindi veramente siete nei miei pensieri allora sto facendo il lavoro dello spolvero e sto sfregando in maniera un po' più efficace sulle parti centrali dove so che la missione non è aderito e per far staccare le parti dove non c'è la missione perché il foglietto attacca con molta facilità però strofinando bene vedrete che i punti dove comunque la colla non c'è il foglietto si va a staccare quindi fate un lavoro certosino e dateci della cura fatelo con con tante attenzione e soprattutto con amore perché le cose con amore vengono sempre le belle pure Ennio che ci dice ah no no ancora non siamo fuori orario Silvia abbiamo ancora abbiamo ancora un altro quarto d'ora abbiamo realizzato la tecnica dello spolvero raccogliamo tutti questi micro frammenti vediamo se trovo un contenitore li raccolgo in questo piattino sempre con il pennellino ragazze mi raccomando una cosa importantissima non potete utilizzare nessun elemento bagnato sulla foglia quindi sempre pennelli asciutti straccetti asciutti mani asciutte stencil asciutti mi raccomando perché se se doveste riutilizzare lo stencil facendo sul mobile un'anca a destra e un'anca a sinistra e dovete lavarlo perché magari vi sta sembrando sporca anche se io vi consiglio di lavarla solo alla fine di utilizzare la mascherina se dovete fare il doppio lavoro la usate due volte e poi dopo la lavate se decidete di lavarla perché qualora dovessi decidere di lavarla perché magari non volete lavorare con questa mascherina tutta appiccicosa mi raccomando asciugatela benissimo con il phon perché la foglia non deve mai e poi mai venire a contatto né con l'acqua né con l'umidità perché all'interno della foglia è contenuto nell'oro il rame e nell'argento l'ottone e quindi può succedere che venga fuori poi il verde rame che si ossidi va bene allora allora per quanto riguarda allora Nicoletta l'attaccante di sotto è un materiale che c'è all'interno del nostro kit e si chiama missione ce l'abbiamo anche in vendita da 100 ml e no controllami se dico bene se la missione c'è da 100 ml già presente sul nostro negozio online la potete acquistare o singolarmente nel barattolino da 100 ml oppure all'interno dei kit arrivo Silvia arrivo allora come proteggiamo la missione il lavoro scusate il lavoro viene protetto con o con la finitura o con la gomma lacca allora la finitura è questa ed ha un aspetto giallino e si chiama sandracca e la finitura che nasce tecnicamente prodotto di belle arti nasce per gli ori e le argenti in foglia quindi la questa finitura viene data come chiusura per chiudere il lavoro in maniera definitivo prima di chiudere il lavoro però possiamo procedere all'anticatura come abbiamo detto la scorsa settimana chi è stato presente se lo ricorda abbiamo utilizzato due prodotti per l'anticrezzatura abbiamo usato la gomma lacca che è anch'essa è già una finitura e la catramina allora che cosa voglio sono rimasti dieci minuti vi voglio far vedere questa bellissima meravigliosa cosa allora sullo specchio sì la missione prende anche sulla specchio perché la missione ha un fortissimo potere di adesione quindi prende anche sul vetro se volete realizzare un 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 vaso magari tutto in vetro lo volete completamente rivestire o in foglia oro o in foglia argento potete farlo tranquillamente applicate uno strato abbondante di missione in quel caso lasciatela asciugare mezza giornata perché quando missione ne mettiamo tanta c'è bisogno che asciughi benissimo io ne ho messa pochissima perché avevo fatto già una prima applicazione di missione una mezz'oretta fa prima di partire con la live quindi come vedete non l'ho neanche asciugata col phone ma voi una buttatina di phone dategliela sempre in modo da poter in modo da poter essere sicure che la la missione sia al giusto punto di adesione allora che cosa sto facendo sto facendo un ritocco pittorico devo necessariamente prendere il telefono scusate un attimo così vi faccio vedere il lavoro da vicino eccolo qua ditemi se vi piace guardate l'effetto questo è l'effetto dell'anticatura questo l'applicatura nero nero paraffina e colore crema carteggiato vedete che bello ha un effetto favoloso questa è stata l'applicazione della 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 foglia argento con lo stencil cosa faccio lo sapete che sono amante del del pennello amante delle delle decorazioni con la gomma lacca la settimana scorsa ho realizzato l'anticatura delle delle foglie rendendo l'oro leggermente più caldo in questo caso cosa sto facendo sto facendo l'applicazione della gomma lacca solo su alcuni punti dell'argento per dare dei chiaroscuri quindi un effetto luce un effetto di antichizzatura fate come se fosse un acquerello quindi mettetelo solo in alcuni punti guardate attacco 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 della foglia attacco della foglia attacco della foglia attacco della foglia cioè non la andate a distribuire su tutta la superficie mettetela solo in alcuni punti sì e in alcuni punti no vedete guardate questo punto di stacco che adesso vi sta sembrando una cosa brutta da vedere domani sera vi farò vedere una vi farò una sorpresa vi farò vedere una cosa straordinaria se la sandrac che è la finitura della foglia la vado ad applicare anche sulla superficie del nero e la vado a sfumare leggermente posso realizzare anche sulla parte nera opaca dei punti di luce quindi come vedete veramente è un mondo straordinario solo da scoprire qui intorno sto facendo un'anticatura lasciando dei punti lucidi e dei punti opachi vedete intorno al disegno lascio l'opaco perché faccio risaltare la foglia invece intorno al riquadro vado a mettere la sandracca in modo da realizzare questo effetto più luminoso perché perché domani sera c'è una sorpresa io intorno a questo bordo intorno a questo squadro andrò a realizzare così 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 andrò a realizzare un merletto vediamo se riesco a trovarlo forse è di là si vedi un attimo se vuoi girare dall'altra parte vi faccio vedere che cosa vi do una piccola anticipazione eccolo qui andrò a realizzare questo merlettino qua questo questo farò intorno a questo medaglioncino andrò a realizzare un merlettino ma non con la tecnica spiegata questa sera naturalmente sapete che non mi ripeto mai con una tecnica nuova quella di cui vi parlavo all'inizio sì la scusate ragazze hai ragione Damiano la gomma lacca sto utilizzando scusatemi mi ho avuto un attimo di defiance la gomma lacca sto utilizzando ragazzi la sandracca la utilizzeremo come finitura per andare a completare il tutto allora vedete dove sì dove no sto applicando questo punto di luce quindi non in maniera completamente omogenea con posso ulteriormente continuare ad antichizzare utilizzando la catramina e andando ad applicare un effetto catramina leggero nei punti in cui non ho applicato invece la la gomma lacca creando un ulteriore effetto antichizzato lo so che non è che non è facile lo so che il ritocco pittorico non è per tutti però io vi dico provate sperimentate sperimentate le tecniche guardate fate fate delle prove delle prove tecniche fatelo naturalmente prima di andarlo a fare sul vostro mobiluccio fatelo prima su una tavoletta in modo che magari se sbagliate qualcosa avete la possibilità di rimediare o comunque potete ricominciare senza aver magari rovinato un mobile d'arredo allora la sandracca federica è la fase successiva alla gomma lacca e la finitura però la voglio chiamare con il suo nome corretto perché non vorrei che qualcuna di voi utilizzasse sulla foglia oro o argento utilizzasse la finitura per i mobili quella che chiediamo per la finitura extraforte perché la finitura extraforte può essere utilizzata sulla foglia oro sulla foglia argento però ne toglie leggermente la lucentezza e quindi vi consiglio di utilizzare la finitura quella proprio diciamo originale quella che nasce come materiale di belle arti ed è un prodotto diciamo un prodotto il più adatto il più giusto ecco qua non so se si vede ragazze fatemi sapere se se lo vedete sono andata a realizzare con la con la catramina che è l'antichizzante per la foglia oro sono andata a realizzare nelle parti opposte in cui ho messo la la gomma lacca sono andata a realizzare un altro sfondo di luce quindi da un lato ho messo la gomma lacca e dall'altro ho messo la catramina va bene ragazze la sandracca non è a base d'acqua ma è una finitura a base è una resina è una resina estratta da un albero ed è originaria della nordafrica è usata come per la preparazione di vernice e lacche e quindi molto spesso viene unita ad altri componenti ed aggiunta ad altre resine cioè la gomma lacca è un prodotto ottimo per la protezione dei vostri mobili quindi fate conto che la la sandracca in realtà non è altro che una gomma lacca ancora più professionale se la dovete acquistare fuori dal kit potete acquistare o uno o l'altro ma vi consiglio di acquistarle nel kit perché mentre la sandracca non ha un effetto non rende non dà un effetto roseo alla non dà un effetto roseo all'oro all'argento la 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 gomma lacca invece lo dà che poi più che roseo ha questo effetto molto molto dorato molto bello allora sì sì Silvia questo pannetto è un pannetto in microfibra ed è asciutto quindi lo potete vedete io lo 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 tampono faccio questo effetto a tampone e sfumo questa e sfumo quindi assolutamente sì con un pannettino asciutto perché avevo detto poc'anzi che non dovete mai 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 utilizzare il nessun elemento bagnato o umido sulla sull'oro o sull'argento in foglia va bene ragazze allora vediamo un attimo se riesco a far mantenere il telefono perché ecco qua allora ragazze che mi dite che mi dite vi è piaciuta questa diretta domani sera andiamo in completamento con le tecniche degli ori abbiamo finito ragazze con gli ori la settimana prossima parliamo di altro quindi con gli ori abbiamo concluso un un capitolo importante lo abbiamo visto realizzato in quattro modi con la live di giovedì l'applicazione della foglia oro grazie Sara l'applicazione della foglia oro con la tecnica tradizionale quindi su tutta la superficie con venerdì abbiamo applicato la foglia argento in anticatura quindi applicando la missione dove si dove no solo ed esclusivamente sui bordi dei decori oggi abbiamo parlato di foglia oro con stencil perché tantissime di voi hanno realizzato grazie a tutte tantissime di voi hanno realizzato hanno acquistato le mascherine e quindi realizzate con le mascherine questa meravigliosa tecnica e fatelo con fatelo anche sui mobili country e vi ho fatto vedere venerdì scorso che con l'argento potete andare su rosa sul carta zucchero sul grigio piombo sul tortora e quindi con l'argento carteggiandolo un po' e rendendolo anche un po' più antichizzato potete dare comunque lo stile shabby e quindi dare un tocco di luce e magari utilizzando una mascherina shabby già potete cambiare e virare un po' lo stile naturalmente utilizzando queste mascherine rimaniamo su un effetto un po' più elegante un po' più importante vi ridò i nomi ragazze tapezzeria damasco e l'altro come si chiama scusate ho sbagliato le tappezzeria damasco e aspettate che damasco liberty quello che abbiamo utilizzato questa sera è il damasco liberty quindi mi raccomando scrivetemi immediatamente su whatsapp al 328 23 27 072 per bloccare questi stencil ne abbiamo solo 5 e 5 1 e 2 eccoli qua sono entrambi bellissimi quindi uno vale l'altro ragazze non c'è tanta differenza domani sera parliamo di domani sera parliamo di alcol allora mi chiedeva mi diceva Ennio che c'è una signora che chiede come si puliscono i pennelli i pennelli si puliscono con l'alcol però non usate al superiore si si non usate l'alcol profumato quello che si vende al supermercato dovete usare alcol puro giusto Ennio superiore a 94 gradi quindi questo lui è il tecnico io sono l'artista quindi ci compensiamo a meraviglia allora quindi domani sera parliamo di centrini parliamo di centrini finiamo e completiamo la carrellata degli ori degli argenti domani sera vi farò vedere questo è stato realizzato questo decoro è stato realizzato con questa mascherina qui bellissima il mini giglio stupenda mascherina di queste ragazze ne sono rimaste solo 4 ne abbiamo pochissime e abbiamo realizzato questi angolari mettendola in sbiego come la vedete qui quindi diciamo che domani vi parlerò di questa tecnica dello stencil micro micro stencil e quindi con l'utilizzo di un altro applicativo e di un altro decorativo ragazze scrivetemi su whatsapp non appena finisce la diretta in modo che io possa segnarmi e mettervelo da parte e che dire ancora niente siamo siamo arrivati alla fine anche oggi di questa meravigliosa diretta sono felicissima di avervi avuto con me e mi raccomando ragazze fatemi il vostro regalo condividete all'interno della vostra pagina se avete un gruppo di lavoro condividete all'interno dei gruppi shabby perché tutti possano venire a conoscenza di queste straordinarie e meravigliose tecniche per quanto riguarda quindi mi raccomando ragazze condividete vi aspetto domani sera alle 18.30 per una nuova live lo stampo di rose sono in arrivo tra domani e dopodomani se non li trovate sull'e-commerce sappiate che venerdì penso domani scaricheranno una quantità industriale di stampi i mold quelli da fare con le paste e quindi lunedì troverete tutto 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 aggiornato sul sito grazie di tutto vi saluto vi abbraccio grazie Giuseppina grazie a voi della vostra presenza e un abbraccio grande 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 vi aspetto a domani grazie a voi